Presentate oggi questa importante iniziativa, questa lotteria del mare con i fondi devoluti in beneficenza proprio alla vostra associazione. Sì, è una bellissima iniziativa soprattutto perché noi siamo convinti che la realtà dell'associazionismo e del volontariato vada collegata al territorio. E questa volta abbiamo questo bellissimo connubio tra un'associazione appunto di volontariato e tutti i balneatori sia pescaresi ma anche delle altre province limitrofe per cui Francavilla, Pineto, Montesilvano che hanno aderito a questa nostra iniziativa. Padovano, allora in mare, sulla spiaggia, beneficenza, ci saranno questi biglietti della lotteria del mare, un'iniziativa mirabile perché insomma si parla di vacanze, di turismo ma ha in questo caso anche di beneficenza. In particolare di beneficenza perché ci siamo dati questo appuntamento per promuovere la ricerca sulle malattie tumorali ma non solo per fare anche capire alle persone che stanno in vacanza che la ricerca non ha mai un limite. E' sempre in vacanza e quindi questo modo di cercare di promuovere queste iniziative deve servire anche nel far arrivare alle imprese balneari ai nostri colleghi che dedicare dieci minuti del proprio tempo nell'attività lavorativa per promuovere la vendita dei biglietti della lotteria sarà non dovuto soltanto a un fatto per arrivare al raggiungimento del premio ma il premio è già solo acquistando un biglietto. Il ricavato andrà in beneficenza proprio all'AIRC ma avete dei progetti particolari diciamo da portare avanti con questi fondi? E' importante che noi possiamo foraggiare i nostri ricercatori fino a fine ricerca. Noi abbiamo delle bellissime realtà in Abruzzo, lo dico sempre nelle mie interviste, proprio perché sono dei fiori all'occhiello le realtà come l'Università di Chieti o quella dell'Aquila e il Mario Negri Sud. Proprio oggi leggevo appunto sul nostro quotidiano che un nostro ricercatore del Mario Negri è stato considerato tra i 2300 migliori scienziati al mondo.